Tutto pronto a Nocera Inferiore per il Natale 2013, c'è stato presentato questa mattina al Comune il cartellone ricco di eventi che animeranno la stagione natalizia qui al Comune Nocerino. È una serie di manifestazioni molto belle, anche molto sobrie, nel senso che non ci sono eccessi né di carattere economico. Abbiamo avuto un grande regalo dai nostri amici di Nocera e degli Epescape perché saranno presenti tramite Sky, quindi la piattaforma di X-Factor in città e daranno il via. Quindi questo è un bel regalo che la città accoglie ed è anche la dimostrazione delle capacità che è in grado di esprimere, delle qualità che è in grado di esprimere e daranno il via alle manifestazioni di Natale a partire dal concerto di sabato, quindi di questa sera alle ore 21 in piazza Liaz, piazza Municipio. E poi c'è il calendario, c'è questo bellissimo albero di Natale che per la prima volta raggiunge circa i 13 metri, quindi credo che è il più alto nel corso delle manifestazioni natalizie. Ringrazio tutti gli sponsor che hanno partecipato, il consigliere Antonio Zarrella che ha contribuito a raccogliere e promuovere le iniziative. Poi c'è stata la collaborazione del tutto il settore delle attività produttive, pubblica istruzione e formazione e del consigliere De Maio per quanto riguarda le altre iniziative con le associazioni, le casette natalizie in legno che per la prima volta saranno messe nella piazza centrale della città, i commercianti che si stanno dando un grande affare, quindi venendoci incontro per quanto riguarda le luminarie in buona parte della città, anche se nei luoghi centrali saranno ovviamente al nostro carico. Abbiamo potuto fare grande economia quest'anno senza buttare decine e decine di migliaia di euro come si è fatto in passato e fare comunque un cartellone natalizio di tutto rispetto. Ci saranno manifestazioni teatrali al Teatro Comunale Diana, in altri teatri amatoriali come ad esempio all'Oratorio San Domenico Savio, con altri gruppi ed associazioni di carattere appunto culturale. Ci sono occasioni per le attività commerciali, quindi di vedere la città arricchita, migliorata e più bella. Grazie a tutti.